Alessandro Sperluti Buon pomeriggio che è uno dei protagonisti di un film che abbiamo seguito nel suo farsi proprio perché avevamo raccontato il set di questo film che è l'ultimo film firmato da Ermanno Olmi Torneranno i prati Alessandro credo che sia stata un'esperienza che è andata forse al di là del girare un film nel senso che poi credo che proprio per il luogo in cui avete girato sia stata un'esperienza una bella prova diciamo decisamente sì è stato molto intenso dal primo all'ultimo giorno perché poi abbiamo girato il film in condizioni atmosferiche abbastanza estreme perché ha nevicato c'era tantissima neve più di quanto pensavamo e inizialmente è stato anche quasi un problema proprio per portare avanti la produzione poi effettivamente Ermanno Olmi ha trasformato la neve quasi in un personaggio del film per cui vi siete adattati voi sostanzialmente sì 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 il mago Olmi il mago Olmi che realizza questo film asciutto secco 86 minuti girati in un unico luogo praticamente cioè una trincea siamo nel 1917 alla vigilia della disfatta di Caporetto e c'è un gruppo di soldati in questo non hanno neanche nome questi soldati il tuo personaggio per esempio è il tenente ognuno è individuato con appunto con i suoi gradi con i suoi gradi perché se si pensa che Olmi è un signore ormai che ha superato gli 80 anni ed è assolutamente antiretorico rispetto a quella guerra Alessandro quando vi ha chiamato ti ha fatto il provino ti ha raccontato che cosa sarebbe successo in quella trincea che impressione ti ha fatto e che cosa ti ha raccontato Olmi per raccontarti il tuo personaggio e quel mondo beh allora il primo incontro lo ricordo con molto piacere perché è stata quasi una situazione surreale sembrava di vivere un sogno perché sono andato ad Asiago appunto dove abbiamo girato poi il film per otto settimane e mi hanno vestito subito da tenente e poi è successa questa cosa per cui io porto gli occhiali perché sono miope e mi hanno detto ok incontreremo il maestro Olmi per cui dici insomma preparati vestiti mi sono vestito da tenente e mi hanno accompagnato da lui nel dormitorio che è un set del film che era già stato costruito quindi con il fumo i soldati e così e all'ultimo dice ok stiamo andando da Ermanno togliti gli occhiali perché almeno ti vede quindi ho tolto gli occhiali c'era questa situazione surreale non vedevi nulla non vedevo nulla mi hanno accompagnato da Ermanno che era in penombra davanti al monitor e ero emozionatissimo e con delle parole meravigliose mi ha introdotto il personaggio non mi ha detto tanto sulla storia effettivamente noi non conoscevamo molto di quello che succedeva ogni giorno sul set lo scoprivamo ogni giorno sul set per l'appunto la mattina ricevevamo gli stralci delle sceneggiature molto spesso c'erano delle modifiche addirittura in corsa proprio durante le riprese per cui proprio per ottenere diciamo l'effetto sorpresa perché lavorare con lui effettivamente non era soltanto interpretare delle battute o appunto calarsi nel personaggio lui ricerca una verità molto profonda e molto intima che va al di là del appunto recitare una battuta è un lavoro sicuramente appunto che arriva in dei punti molto intimi tocca tocca l'intimità sicuramente alla fine sei stanco sei estremato perché hai tirato fuori tutto però veramente hai un'emozione immensa sai di aver vissuto un'esperienza unica senti il tuo personaggio è appunto un tenentino che si ritrova in una situazione anche più grande molto più grande di lui ad un certo punto deve dover prendere delle decisioni che vanno anche al di là di quello che è il suo ruolo in questa notte sotto quattro metri di neve con una luna gigantesca che illumina tutto e quindi in guerra rende tutto più difficile perché non si può uscire da quella trincea senza essere colpiti che tipo di preparazione hai fatto perché quel tenentino ha credo più o meno la tua età tu sei giovane sei molto giovane quindi era un ragazzo anche lui però in quella situazione estrema che tipo di non so ti sei hai fatto delle ricerche ti sei guardato delle cose oppure la sceneggiatura che ci dicevi però era un work in progress ogni giorno ti dava tutti gli elementi per poter interpretare quel personaggio ma effettivamente una era difficile prepararsi perché qualsiasi cosa ti potessi costruire in testa diciamo le cose fondamentali appunto per quanto riguarda il personaggio me ne aveva parlato appunto Emanuelmi all'inizio prima di iniziare il film quindi i caratteri fondamentali è che questo era un tenente aristocratico quindi veniva da una buona famiglia e si era preparato alla guerra sulle carte sulle sue carte quindi non conosceva effettivamente cosa fosse realmente la guerra e quindi è una sorta di è un percorso che fa in quella notte perché si rende conto e vede gli orrori che quei soldati erano costretti a vivere ed è costretto appunto a cambiare i propri ideali per me è stato in realtà appunto a parte ovviamente leggere libri guardare film prima di iniziare le riprese in realtà è stato veramente anche per me personalmente un percorso di crescita dal primo all'ultimo giorno perché era veramente lasciarsi andare alla guida di Erman Olmi e agli eventi e a quello che succedeva sul set e da lì poi uscivano fuori le emozioni che erano come dicevo prima erano pure Senti Alessandro tu sei giovane come diceva Miriam del 1987 eppure hai un curriculum di tutto rispetto ti sei mostro tra serie televisive cinema così come stiamo raccontando anche appunto in questa esperienza con Erman Olmi quando ti sei avvicinato all'arte diciamo ecco quando hai deciso di fare l'attore so che da piccolissimo già ti avevamo portato su un set in un videoclip in un videoclip di Marianne Ray nel lontano un bel po' di anni fa sì diciamo è iniziato tutto per caso nella passione per il cinema per l'arte in generale c'è sempre stata nella mia famiglia quindi mi è stata tramandata si è trasmessa facevamo spettacolini a livello amatoriale insomma anche quando ero piccolo e poi sì per per caso diciamo mi sono iscritto in questa in questa agenzia ho fatto i primi provini ho visto che mi piaceva è arrivato il primo la prima esperienza importante sul set si chiamava il tesoro di Damasco girato in Tunisia e poi subito dopo il cristallo di rocca invece girato in Trentino nel freddo assoluto in mezzo alla nera era in preparazione del film di Eulio quello adesso poi l'hai capito e quindi queste sono state le prime esperienze che mi hanno fatto innamorare perché insomma a dieci anni vivere un'esperienza così intensa e così divertente perché effettivamente era un gioco mi hanno fatto innamorare della recitazione del set poi crescendo ovviamente cominci a sentire un po' la responsabilità cambia un po' il gioco e quindi devi decidere se continuare o meno e io ho deciso di continuare perché mi piace talmente tanto che non posso farne a meno e quando non lavoro sto male per cui ho capito che questo è quello che voglio fare e che spero di continuare insomma a lungo senti nel film c'è c'è un punto un momento in cui tu di fatto fai un monologo un monologo guardando guardando in camera guardando dritto negli occhi degli spettatori in quel momento ecco quella parte lì che poi è un po' forse il cuore anche del del tuo personaggio il momento in cui prende coscienza di quello che sta vivendo è una cosa che hai hai dovuto come ti sei preparato hai dovuto impararla è andato bene il primo ciak l'hai fatto 60 volte come è andata devo dire che quello è stata uno dei momenti più emozionanti insomma che ho vissuto sul set non non l'abbiamo fatta tante volte effettivamente perché appunto come ti dicevo prima in quelle parole io appunto ho letto ho letto la lettera sì l'ho preparata per la scena e in quelle parole c'era già tutta l'emozione quindi effettivamente è uscita è uscita da sola da sé è stato davvero un momento molto emozionante ed è un momento molto emozionante anche per gli spettatori quel momento lì verso verso il finale di Torneranno i Prati che difficoltà avete avuto sul set perché appunto è una notte quindi immagino abbiate girato quasi sempre di notte la neve era vera non era sparata con i cannoni finta era tutta vera esatto e non so io sono stata sul set era anche difficile da raggiungere quella trincea immagino che con la macchina da presa e tutta l'attrezzatura i costumi eccetera sia stata veramente un'impresa raccontaci un po' le difficoltà pratiche di quel set diciamo la difficoltà principale era il freddo sì perché a un certo punto non sentivi più i piedi quindi c'erano ovviamente anche lunghe attese all'interno della trincea quindi stai fermo sugli stivali poi dell'epoca mettevamo gli scaldini per cercare ma niente dopo un po' sparivano però effettivamente la lezione più grande ce l'ha data proprio Erman Olmi perché noi stavamo lì ma appunto che freddo fa freddo il cappotto le cose e nel frattempo c'era Erman Olmi seduto in trincea dalla mattina alla sera anzi appunto molto spesso di notte non si muoveva neanche per mangiare lui stava lì costantemente con la stessa energia dal primo all'ultimo momento e questo insomma è stato era imbarazzante di lo freddo di fronte esatto mettiamola così poi devo dire poi devo dire che comunque quelle condizioni sì è vero sicuramente hanno reso tutto più faticoso però allo stesso tempo ci hanno aiutato ad immergerci in quello che poteva essere un paesaggio reale nel 1917 per cui insomma è stato anche un aiuto senti in un set come quello di Torneranno i Prati in cui eravate deportati ad Asiago diciamo così per otto settimane che cosa succedeva finito il set siete rimasti ad Asiago non andavate altrove quindi siete stati veramente lì siamo stati lì otto settimane e poi appunto quando toccava a me salivo io sul set quando toccava un altro attore c'è Claudio Santamaria anche nel cast ci sono una serie di giovani attori che secondo me insomma sì Francesco Formichetti Niccolò Senni Camillo Grassi e Andrea Di Maria senti a proposito di attori quali sono i miti di Alessandro Sperduti beh allora io diciamo un mio mito vero in realtà che è un sogno che ho da quando sono bambino è Tim Burton che non è un attore ma insomma è un grande sogno tantissimo sì tantissimo come attori beh di adesso per me diciamo mi ispira molto Christian Bale è sempre appunto una fonte di ispirazione lo trovo il suo egrettismo diciamo ecco sì perché cambia totalmente da un film all'altro è veramente incredibile Mary Streep dirò una banalità però insomma è veramente una grandissima attrice e questi per me sono un po' i due punti di riferimento punti di riferimento beh insomma studia un po' l'inglese come nella cavi? va bene bene mi piace c'è un fatto linguistico quindi insomma bravo perché perché ogni tanto adesso spuntano gli attori italiani nelle produzioni internazionali poi si parla di Cinecittà che deve di nuovo ospitare non so quante produzioni nei prossimi mesi quindi agli attori giovani italiani studiate inglese così poi il salto è più facile spesso magari andando a girare magari negli States bisogna rimettere in gioco un po' la propria vita se arriva l'offerta tu in quel caso saresti disposto ma sì sì insomma penso proprio di sì insomma sarebbe sicuramente ecco una novità non so poi effettivamente sicuramente c'è un altro tipo di approccio non so effettivamente l'industria sarà sicuramente diversa il modo in cui funziona non lo so però sì mi piacerebbe però nel frattempo io spero di sì sì sinceramente spero di andare avanti ho tanti sogni anche per quanto riguarda registi italiani ho attori di riferimento italiani e che ci tengo a dirlo non voglio soltanto appunto parlare di attori stranieri per esempio Kim Rossi Stewart per me è un altro punto di riferimento Virzi sarebbe un sogno lavorare con lui insomma io spero di semplicemente di continuare a lavorare se riesco a realizzare questi sogni tanto meglio però insomma spero di poter incontrare quei personaggi di cui parlavo prima l'appello l'abbiamo lanciato se Tim Vatton era la scuola si faccio io va bene grazie ancora intanto però potete vedere Alessandro Sperduti intorneranno i prati lo trovate in sala in questi giorni e quindi a Roma lo fanno sicuramente al Saker perché sono stata domenica e lo fanno al Saker e quindi insomma andate grazie grazie Alessandro grazie grazie a tutti